Musica 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 Grazie a tutti. 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 Quanto i giovani d'oggi siano violenti? Eh, piccreco mezzi. Quello è più avanti, è un'altra canzone. Ne parliamo dopo. Più avanti o più dietro? Un modo più dietro. Questa canzone ha trovato la formula e l'incognita sono i calci in calci in calci i giovani d'oggi. Facciamo una stima.